Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo qui con Cristian. Ciao ragazzi, ciao Luca. Ciao Cristian. Dunque, sono indeciso se fare qualcosa con voi o meno, come faccio a sbloccarmi? Ok, allora, questo accade spesso, è accaduto spesso e accadrà sempre spesso. Che le persone sono sempre lì che vorrebbero a volte la garanzia, le garanzie del risultato, perché finora non hanno mai avuto risultati e vorrebbero buttarsi con la sicurezza. La gente piace questa cosa qua della sicurezza, ma io voglio fare business, però voglio farlo in totale sicurezza. Eh amico, non esiste la sicurezza, cioè Playlover potrebbe chiudere domani mattina, ok? Per adesso non è così, ma non è escluso che in futuro succeda. Quindi voglio dire, io sono abituato a navigare nell'insicurezza e sono abituato ad essere la mia garanzia ogni singolo giorno, ok? A parte questo, che dovrebbe comunque essere parte integrante della vostra mentalità, cioè che voi venite al corso ma non c'è nulla di garantito, c'è una serie di recensioni che ti dicono guarda che Playlover ha avuto un sacco di benefici su un determinato numero di persone che dovrebbero farti pensare che potremmo lavorare molto bene anche su di te. Però tu però pensare una cosa, hai 30 anni, non hai mai avuto risultati con le donne, no? E finora tu non hai fatto nulla con le donne, cioè non hai fatto corsi, non hai provato a buttarti, non hai fatto nulla. Secondo te, se continui con questo atteggiamento, cosa può accadere? Prendi quello che è accaduto nel passato, cioè niente, e replicalo anche nel futuro. Quindi altri 30 anni in cui non succederà nulla, tu hai buttato via un'intera vita, fine. Per cosa? Per 900 euro? Cioè capisci che non ha senso tutto questo? Se non è accaduto nulla e hai 30 anni, 25, 35 anni e non fai nulla, non accadrà nulla. Perché già il tuo storico è una base previsionale importante. Ok? Quindi come sbloccarti? E pensando a queste cose qua, che devi fare qualcosa perché sennò continuerà a non esserci nulla sulla vita sentimentale che hai, che stai vivendo in questo momento. Grazie. Un saluto.